Dal cuore pulsante della città i tifosi si preparano ad accogliere in casa i Rosso Azzurri al suo debutto contro il Genova. Io spero che vada al massimo, quindi che venga e che tutto il campionato vada al meglio. Secondo me vinciamo sempre, perché siamo sempre una squadra dell'anno scorso, un gruppo dell'anno scorso di quest'anno abbiamo confermato e penso che Povendo ha fatto la cosa migliore che poteva fare. Il migliore acquisto che poteva fare era riconfermare il gruppo dell'anno scorso. Il Catania ormai è una realtà, l'ha dimostrato già negli anni scorsi, quindi si vince, speriamo che si vince, quindi si fa di tutto per vincere. Manca un altro attaccante. Innanzitutto mi è fatto piacere che Gomez non sia andato, ha dimostrato di essere con il cuore rosso-azzurro e poi dobbiamo cercare di arrivare alla UEFA almeno quest'anno, che la squadra c'è, i tifosi altrettanto e forza Catania. Che vincemo sempre, sempre, ci portiamo lo scudetto. Ci portiamo lo scudetto, quindi siamo sicuri? Sì, sì. Allora lo possiamo dire, la seconda giornata, prima tappa casalinga del Catania, possiamo dire che il Catania quest'anno conquisterà? Lo scudetto. Lo scudetto. Vuole fare un saluto a tutte le rosso-azzurre catanesi? Forza Catania. Non vendendo Barrientos e Gomez, già hanno fatto una bella campagna a questa. Tutta la squadra rossa-azzurra, se domenica vince? Se vogliamo mangiare di all'Eve. L'anguria è come un malzimonio, a rinascere. Però Catania o me l'abbiamo collo votato da un anno prima. A un anno andiamo bene, ci serviremo. In panchina non più Montella, ma Maran. Maran è sempre... Maran è nato ieri, scusami. Che un ottimo allenatore. Ancora siamo all'inizio, ancora siamo a una partita. Vediamo. A metà stagione vedremo che frutti abbiamo. Ale è un allenatore che ha dimostrato di debutare a Roma in Serie A, quindi ha fatto bene cadette, quindi secondo me farà bene, spero anche a Catania. L'ingognita è soltanto Maran. Speriamo che va bene pure questo come allenatore. Il pronostico quindi per questo appuntamento di domani? 3-1 per il Catania. Chi segnerà? Chi segnerà? Berghessio, doppietta e un gol di Gomez. Se Berghessio dovesse fare doppietta, cosa gli facciamo gustare? Quello che lui vuole. Basta che viene qui, le porte sono sempre aperte per lui. Però a Biari tu, gol ogni semana. Io faccio anche un invito ad andare allo stadio con le famiglie, perché comunque si sta bene, si ci diverte e non è più pericoloso. Tutti allo stadio. Se dovessimo dire domenica tutti allo stadio, perché? Perché il Catania è incominciato bene e ci dobbiamo andare tutti. Tu sarai allo stadio? Sì, sicuramente. Qual è la tua tribuna? La Sud. Guardando la telecamera da un senegalese, puro sangue ma rossazzurro nel suo animo, possiamo dire ufficialmente? Forse Catania. Auguri, quest'anno è andato ora in Liga. Grazie. 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 Grazie.